Ottenevano la fiducia di persone anziane e sole per poi distrarre la vittima, facendo in modo che una delle due riuscisse a rovistare nelle stanze per poi rubare soldi e gioielli. Sono state arrestate in flagranza di reato dalla squadra mobile di Pesaro le due donne giovani e insospettabili che avevano appena messo a segno un furto in una casa del centro storico. Gli investigatori, dopo aver notato dei movimenti sospetti, li hanno aspettati all'uscita dal condominio, li hanno bloccati e identificati. Nel frattempo hanno controllato la loro auto in attesa di farle risalire a bordo nelle immediate vicinanze dell'appartamento. Tuttavia la vettura, con una repentina e pericolosa manovra di accelerazione, urtando anche un'auto in sosta, si è allontanata velocemente riuscendo a far perdere le tracce. L'auto è stata rinvenuta poco dopo, abbandonata in un parcheggio del centro e sequestrata dalle volanti. Le due giovani invece sono state bloccate con addosso ancora all'aria furtiva, consistente in vari monili in oro appartenenti alla vittima. Gli oggetti sono stati sequestrati e restituiti alla legittima proprietaria. La Polizia di Stato ricorda di non far entrare gli estranei in casa. Infatti, per compiere questi furti, i malviventi utilizzano delle strategie particolarmente subdole e insospettabili. Approfittano della minor capacità di difesa delle persone anziane e fragili, carpendo nella fiducia con modi gentili ed educati. A volte leggono i nominativi presenti sui citofoni o nelle cassette delle lettere, per poi ripeterli alla vittima, sola in casa, dicendo di dover parlare con lei. Inventano scuse plausibili, si spacciano per funzionari di enti pubblici, oppure si dicono interessati all'acquisto di un appartamento o di quel condominio, sfruttando così la scusa di chiedere di visionare i locali. Scusi simili a quelle utilizzate in quest'ultimo colpo. Questa mattina il GIP del Tribunale di Pesaro ha convalidato gli arresti effettuati dagli agenti, revocando il reddito di cittadinanza percepito da una delle due. Poi però sono state rimesse in libertà, perché entrambe hanno dei figli piccoli che hanno ancora bisogno di essere accuditi. Il giudice ha applicato nei loro confronti il divieto di dimora e di accesso nella provincia di Pesaro.